Continuano i saliscendi per quanto riguarda il mercato cripto e una fase leggermente delicata. Oggi andiamo a vedere quelli che sono i grafici classici che vediamo sempre per capire un po' che cosa sta succedendo a Bitcoin. Questo costrutto di congestione barra lateralizzazione ribassista non è positivo perché già vi accennavo nei video precedenti che poteva essere comunque negativo nell'ottica dello short term sempre ma poi vi faccio vedere anche il grafico che riguarda invece proprio le operazioni di questa settimana per andare ad individuare una data papabile di possibile eventuale rimbalzo ma che soprattutto potrebbe essere una data delicatissima per eventuali fasi di nuovi minimi. Poi facciamo l'analisi del Nasdaq e andiamo a comprendere un po' quello che stanno facendo i mercati classici in più vi avevo promesso dal video di venerdì l'analisi del grafico congiunto quello Bitcoin contro NQ Nasdaq 100 che cosa sta facendo era il grafico più bello che l'anno scorso ci aveva indicato la chiusura del ciclo annuale in maniera estremamente pulita. Insomma tante cose ma soprattutto tecniche in questo Bitcoin Monday io ragazzi prima di ogni cosa io vi chiedo di darmi un pollicione iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto ma soprattutto il mi piace poi c'è una super offerta per voi un airdrop di 15 dollari completamente regalati dalla Bybit come exchange ragazzi perché è raro che parlo ogni tanto di Bybit è uno dei miei due exchange io utilizzo Bitcoin, Bybit e anche Binance devo essere sincero ancora lo utilizzo comunque Bybit ragazzi vi regala 15 dollari di airdrop con un deposito di 100 dollari sono prelevabili, li potete utilizzare, potete fare quello che volete basta cliccare dal link che vi lascio in descrizione depositare 100 dollari ovviamente ci vuole che quei sì e vi regalano 15 dollari e vi arriva la airdrop vale solo per questo mese e solo per le prime 60 persone perché già in 7 lo hanno utilizzato nonostante non lo abbia ancora pubblicizzato non so come sia possibile comunque vabbè l'hanno già utilizzato quindi restano una cinquantina di airdrop possibili ragazzi non vi fate scappare questa occasione se non lo avete tra le altre cose Bybit è uno degli exchange top per il trading sui future è anche normale quindi assolutamente top level restiamo in ambito di exchange di altissimo livello vi lascio il link in descrizione per avere la airdrop da 15 dollari andiamo a fare una serie di questioni intanto prima di andare ai grafici vediamo l'andamento dei ETF di Bitcoin come stanno andando e già vi accenno che stanno andando molto bene io non sto prendendo più in considerazione gli AUM quindi gli asset under management regati al dollaro ma li sto prendendo in considerazione quelli direttamente in Bitcoin in modo tale da non avere la conversione in dollari e quindi da non subire eventuali oscillazioni insomma ancora non ho capito come calcolano queste tabelle siccome questa la prendo da online da Bitmax preferisco in pratica darvi quella di Bitcoin almeno siamo sicuri di quello che stiamo vedendo allora il flusso palesemente positivo che vediamo qui in questi giorni è anche ampio quindi 5.900 Bitcoin 2.900 Bitcoin 4.600 Bitcoin 800 Bitcoin 1.800 Bitcoin ok non è altissimo non sono nell'ordine dei 10.000 al giorno ma non è neanche poco e soprattutto è assolutamente costante e soprattutto ricordiamoci che c'è ancora le fuoriuscite da parte di Grayscale che continua a diminuire quindi non è che noi non abbiamo le fuoriuscite di Grayscale quindi si è fermato il flusso si è fermato l'abbondanza di questo flusso che ovviamente sta diminuendo in termini di Bitcoin venduti i primi sono già stati venduti nelle scorse settimane però comunque continua a essere negativo quindi se noi a questo aggiungiamo la questione di Grayscale negativo ci rendiamo conto che in questo momento il TF Bitcoin sta macinando per i numeri sarà un successo e lo vedremo nei prossimi mesi però sicuramente male non sta andando quindi da questo punto di vista negli ultimi giorni ha recuperato molto di quello che invece non aveva fatto nei primi giorni e quindi ha iniziato a macinare ovviamente la price section e quindi l'andamento del price di Bitcoin è connesse anche le altcoin è connesso sì tanto e non quanto a questo fenomeno che invece ha più un impatto long term e quindi se poi dobbiamo andare comunque ad analizzare l'impatto short term dobbiamo guardare altre cose però questo è un non dico un salvagente ma comunque un punto a favore perché ci dà un'importanza enorme su quello che stiamo assistendo è anche quello che potrebbe arrivare poi nel prossimo futuro dati macroeconomici di questa settimana rilevanti non ce ne sono quindi io andrei molto veloce da questo punto di vista abbiamo visto la scorsa settimana che i dati relativi ai tassi di interesse saranno in sostanza un po' ancora bloccati per un po' di tempo poi tendenzialmente maggio-giugno la prima data utile per la diminuzione il primo quantità di easing diciamo che non è un taglio dei tassi non c'entra niente però potrebbe un po' facilitare l'emissione di liquidità vi ricordo che a doppio filo Bitcoin ha reagito e tutto il mercato crypto ha reagito molto di più a una questione legata alla liquidità presente più, molto di più rispetto anche alla questione dell'albing di cui ho parlato nel video di venerdì che è un video bomba ragazzi ok il video di venerdì ve l'ho detto sopra la mia testa perché a parte i complimenti che mi avete fatto vi ringrazio chi non vede quel video non può cavalcare il prossimo albing lo dico così ragazzi è veramente un video bomba non ve lo perdete veramente incredibile quello è un video importantissimo da vedere per i prossimi mesi mesi e mesi andiamo a ragionare dal punto di vista dei grafici iniziamo dal grafico daily di Bitcoin cosa è cambiato allora intanto la figurazione che si è andata a creare e che stiamo seguendo già da un po' e che indicava in sostanza anche una pericolosità già da queste giornate qui io ho fatto più volte un po' il video dicendovi che questi canali creati in questo modo erano canali di inversione piuttosto che di continuazione del trend però insomma poi ovviamente il prezzo va sempre dove vuole non è che noi abbiamo una sfera di cristallo ragazzi però a livello di probabilità il fatto che poi la correzione sarebbe arrivata era un po' maggiore anche se io a un certo punto mi aspettavo che questo guizzo durasse qualche giorno in più e che magari ai 50-51 ci poteva arrivare prima della discesa in realtà è arrivato a 49 soprattutto non mi è piaciuto il guizzo che ha fatto perché non ha mai chiuso in pratica a quel livello quindi insomma è ritornato a scendere questa fase ribassista al momento non è terminata perché questo rimbalzo è il primo swing di un eventuale ABC correttivo questo cosa significa? significa che fino a un rimbalzo del genere ho fatto al contrario scusate fino a un rimbalzo del genere ok ci poteva stare ma in pratica non era continuo a sbagliare ragazzi scusatemi oggi sono un po' sfasato allora non era in pratica non è un'inversione non è un ripristino del trend precedente questa struttura creata in questo modo resta al momento questo rimbalzo come un rimbalzo alcuni hanno definito rimbalzo del gatto morto allora io non ragiono in questo modo perché un rimbalzo è un rimbalzo rimbalzo del gatto morto significa che siamo sicuri che questo rimbalzo sia appartenente a un movimento appunto con correttivo come una BC e quindi in pratica stia facendo 1, 2 e 3 ma noi non siamo sicuri di questo la probabilità è molto alta questo ve lo dico ragazzi per diversi motivi anche a livello ciclico è così però il mercato va sempre tenuto d'occhio in base al prezzo che è l'unica cosa che non mente mai noi attraverso le analisi cerchiamo comunque di avere chiarezza per prendere eventualmente delle precauzioni sulle nostre posizioni diminuire la volatilità cosa importantissima oppure avere un minimo di logica nel strutturare i nostri acquisti e soprattutto in questo mercato essenziale ben diverso il mercato classico soprattutto se andiamo a utilizzare indice quindi ETF eccetera ragazzi non confondete tutti gli insegnamenti che vengono fuori dall'economia classica su quelli che sono i portafogli di ETF con il mercato delle cripto non c'entrano nulla sono due cose completamente separate e vi fate malissimo a ragionare in quel modo sul mercato delle criptovalute perché il mercato delle cripto non è collegato in questo momento a quel tipo di logica e quindi non si possono utilizzare quelle logiche però un ragionamento sul timing con tutti i difetti del ragionamento sul timing lo dobbiamo in ogni caso avere in questo settore per una serie di motivi che sono impossibili da eliminare in altri modi a meno che appunto non vogliamo avere una volatilità pazzesca su bitcoin lo possiamo anche accettare ma sul resto delle cripto è improponibile impensabile abbiamo le cripto che non sono mai state vicine ai massimi del 2017 mai più ritorneranno alcuni progetti falliti totalmente quindi non si può ragionare in questo settore in quel modo lì allora questa struttura correttiva al momento è una struttura correttiva e quindi teoricamente configurerebbe la gamba ribassista finale che andrebbe anche a sposarsi con una questione ciclica molto rilevante cioè la partenza di un ciclo di natura trimestrale sul minimo dell'11 di dicembre c'è anche da dire che se andiamo a considerare le clause forse potremmo considerare anche questa qui perché è una clause che è un po' simile quindi quella del 17 non cambia niente perché tanto a livello dell'11 17 ci sono 6 giorni quindi non c'è una grande differenza però teoricamente se qui è iniziato il ciclo trimestrale e questo punto di minimo di bitcoin non ha chiuso un ciclo definibile come ciclo superiore quindi in sostanza non è andata a chiudere un semestrale almeno allora a quel punto questo ciclo è vincolato al ribasso e in questo caso non c'è scampo proprio è vincolato ragazzi a scendere non è soltanto una questione di natura tecnica è proprio una questione di struttura ciclica l'unica anomalia a questo vincolo può essere solo e unicamente una chiusura di un ciclo maggiore di cui al momento non si comprende il senso su questo livello di minimo quindi è un'anomalia qualora non dovesse scendere è un'anomalia diciamola in questo modo la soluzione più classica è questa barretta di congestione fino a un eventuale doppio minimo in questa zona quindi un classico atteggiamento alla bitcoin lo sarei dire io ho anche creato una strategia su questo pattern l'ho identificata come pattern caimi ed è una modifica della strategia 1 2 3 di joe ross che è molto famosa ma ampliata e perfezionata adatta un po' al mercato delle cripto sono delle leggere modifiche e sinceramente dovesse fare una cosa del genere sarebbe di buon auspicio per il proseguo di questa struttura di mercato allora barra di congestione ed è in questa fase l'attesa resta per una continuazione di questa correzione le due medie mobili sono diventate medie mobili di supporto non più di resistenza attenzione però che in barra di congestione le medie mobili come alcuni di voi sapranno già non hanno alcuna valenza perché non indicano più il trend bensì indicano la congestione quindi nel momento in cui abbiamo un trend delineato le barre di congestione e non una barra di congestione le medie hanno senso nel momento in cui il trend non è delineato le medie non hanno senso però in linea di massima continuiamo a considerare questa come una zona di supporto anche se vi ripeto se qui siamo in una struttura che sta facendo questo e sembrerebbe così qui potrebbe tranquillamente andare su e giù oscillando non più intorno alle medie perché vi dico questo perché se guardate la media più quella più lenta la 21 giorni è piatta si è appiattito quindi quando una media mobile si appiattisce significa che il trend è diventato laterale e a quel punto la media non ha più nessun valore e non ha senso più utilizzarla perché è un indicatore che non vi dice assolutamente niente in quanto non è adatto a un mercato di quel tipo detto questo vi faccio vedere anche un altro grafico che è quello invece di breve periodo per parlare di cicli di natura settimanale cicli solo per i trader in questo caso non gli investitori e cicli di short term che però sono molto importanti per avere un'anticipazione di quella che per esempio può essere l'andamento della correzione che vi dicevo perché se qui per esempio questa struttura deve andare a chiudere l'abc correttivo andando a fare una cosa del genere questo movimento finale partirà da un certo punto e noi lo vedremo meglio sui grafici di breve e soprattutto sui grafici ciclici di natura settimanale perché vi dico questo perché in questa zona qui intorno ai primi di febbraio è iniziato un nuovo ciclo settimanale che solitamente durano intorno ai 7-8 giorni ovviamente qui in Aisi ciclica ragazzi più scendiamo di time frame così come l'analisi tecnica più il rumore aumenta quindi non vi parlo di queste cose di frequente sul canale youtube perché non lo ritengo utile per chi non è un esperto di queste cose potreste essere estremamente dubbiosi avere tanti problemi anche nella comprensione di quello che è la vostra strategia ed essere indotti molto spesso in errore perché qui quando si scende di time frame abbiamo rumore rumorosità dei segnali del mercato elevatissima quindi dovete essere formati per comprendere queste cose ogni tanto ne parliamo perché lasciatemelo fare anche io lo faccio costantemente e voglio comunque dirvi una cosa che faccio personalmente in academy ne parliamo di continuo ovviamente però ogni tanto ne parliamo anche qui allora questa struttura di rimbalzo che è iniziata proprio su questo movimento qua dai minimi del 22 ha creato in sostanza un ciclo di natura settimanale a forma ternaria e lo so è numeroso ma è fatto così poi da questo punto è arrivato un nuovo ciclo di natura settimanale che sembra in pratica destinato a andare down ragazzi cosa significa per una serie di motivi di struttura ciclica dovrebbe scendere sotto i 41 mila e dovremmo essere qui a 41 mila e 8 e 80 prezzi Bitfinex facciamo così vi sposto alla precisione le linee così non abbiamo difficoltà a guardare proprio il minimo perché dico questo perché questa è una barra di congestione ma abbiamo un massimo che è stato fatto in questa struttura ciclica precedente e questo massimo che oggi stava provando sembrerebbe aver fallito il suo compito oggi e domani sono infatti due giornate chiave perché nonno se non andiamo a rompere i livelli di massimo del ciclo precedente questo ciclo settimanale risulta poi andare nella sua fase ribassista che dovrebbe iniziare da qui in poi da questa zona in poi a livello temporale ed ha difficoltà magari a fare nuovi massimi è un po' più vincolante e poi soprattutto il fatto che abbia fatto un massimo qui che non è riuscito a superare questo spuntone spinge molta pressione ribassista perché cosa succede a livello psicologico nel momento in cui dovesse riavvicinarsi a questo livello di minimo che come potete praticamente guardare è una super barra di congestione se fa una cosa del genere e per caso lo rompe poi ci sono gli sciacquoni perché scattano gli stop si va a innescare la spirale di vendita parliamo short term sempre ragazzi quindi questioni di uno due giorni però oggi fatemi fare questo video un pochettino questa diciamo informazione un pochettino più short term e quindi poi si va down ora poi tra le altre cose una breakout di questo livello di pricing molto in anticipo presuppone un vincolo anche ribassista di tutto il ciclo settimanale insomma deve tentare il bitcoin di superare questo livello che era 44 mila dollari qui c'era andato vicino 43 mila stamattina e 5 però poi si è reversato ora vediamo se riesce a recuperare e ritornare a spingere nel tentativo di fare questo massimo se riesce a fare una cosa del genere si avvicina per esempio nella zona 44 e 5 e 45 allora anche questa view cambia e questo non è più identificabile con il rimbalzo del gatto morto ma attenzione perché potrebbe fare meglio se fa una cosa del genere potrebbe essere l'inizio appunto di un ciclo allora lì magari andiamo a rivedere un po' di analisi se no al momento se dovessimo operare dobbiamo stare attenti a questa struttura quindi occhi puntati sui 41.800 per quanto riguarda bitcoin il breakout tra oggi e domani di questo livello sarebbe estremamente negativo mentre un superamento dei 44.000 dollari è molto positivo andiamo a vedere l'ultimo grafico che vi avevo promesso cioè quello relativo a nasdaq contro bitcoin un grafico molto importante al quale io sono fortemente legato perché simboleggia la forza relativa di bitcoin nei confronti di nasdaq 100 e tra le altre cose un grafico molto importante perché è pulito da alcuni punti di vista lo scorso anno ci aveva identificato in maniera più precisa quello che era era stato in pratica il livello di minimo di novembre eccolo qui il grafico che vi avevo promesso già dal video di venerdì ragazzi è identificabile incredibilmente il livello di resistenza che ha incontrato allora io questi grafici li prendo non a livello operativo ma a livello di conferma di segnali però è incredibile come a volte andando a ragionare in questo modo si riescano ad avere dei trend estremamente più puliti più precisi che rispetto magari a grafici più rumorosi che sono quelli classici che andiamo a vedere allora intanto si evince in maniera estremamente evidente che il trend di bitcoin contro Nasdaq 100 resta ampiamente positivo non è mai invertito è entrato in una barra di congestione ha fatto il ping pong tra qui e qui ed è ritornato al centro nonostante tra le altre cose Nasdaq sui massimi storici quindi non è che Nasdaq sia stato debole è stato molto forte nello scorso anno quindi la forza relativa di bitcoin maggiore non può che farci piacere da questo punto di vista però a me quello che premeva farvi vedere in questo caso è la forma di natura ciclica di questa struttura che implica diciamo spinge molto all'ottica di avere una struttura ciclica ternaria di bitcoin con un massimo appunto nella struttura centrale e in pratica due annuali a forma ternaria cioè questo grafico ci dà maggiormente l'impressione di essere in una struttura di bitcoin che ha un ciclo annuale doppio quindi un biannuale a forma ternaria è importante questa cosa ragazzi perché perché configurerebbe questi mesi fino a marzo come zone di massimo di bitcoin non di minimo e quindi questa fase debole dovrebbe durare poco entro la decade di febbraio e poi riprovare a spingere per nuovi massimi però attenzione perché da lì poi diventa un problema perché andiamo ci spostiamo in una fase molto più lunga del previsto e quindi si vada a abbracciare un concetto di ciclo dell'albing che spinge di bitcoin che spinge prima del ciclo dell'albing e poi dopo l'albing va in correzione più profonda ed è questa una delle due teorie che vi ho spiegato nel video di venerdì non ve lo perdete assolutamente ragazzi ve lo ripeto è importantissimo per i prossimi mesi allora andiamo a rivedere questo grafico e vi ripeto io questo grafico lo tengo a mente come forma di natura diciamo grafica più che a livello di prezzo che ovviamente non è interessante quello ma ragionando ci dà un'informazione intelligente quindi praticamente qui avrebbe fatto una specie di correzione dopodiché dovrebbe o potrebbe spingere appunto verso l'ultima struttura di massimo per poi andare a fare una cosa del genere e quindi indicherebbe in sostanza una seconda parte dell'anno e una buona parte anche del 2025 non buona ragazzi qui saremo ad aprile 2025 se viene confermato certo c'è anche l'ipotesi di una struttura ciclica ternaria che indicherebbe il tentativo dei massimi anche nell'ultimo ciclo prima della chiusura assolutamente questa possibilità c'è e l'andremo a valutare io però al momento visto che comunque lì parliamo di agosto settembre ottobre ci vuole un sacco di tempo io al momento provendo per l'idea di controllare se qui si andrà a concludere una struttura appunto fatta in questo modo e poi con una fase correttiva che in pratica dovrebbe aver fine dopo l'alving intorno a luglio 2024 giugno luglio 2024 allora questo è un grafico un po' più di lungo periodo vi ricordo la promo di Bybit 15 dollari in airdrop regalati a chiunque deposita 100 dollari vi lascio il link in descrizione buon inizio settimana a tutti noi ci rivediamo nel prossimo video ciao